Lei, signor Chitano Francesco, intende prendere il marito più presente Chitano Francesco? No, 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 no. No, 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 no Questa la casa. Questa la casa. Questa la casa. Signor Gitano Francesco, intende prendere in moglie da qui presente quando è in gana? Sì, lo voglio. Lei, signorina Contani di Anna, intende prendere in moglie da qui presente Gitano Francesco con te? In seguito alla risposta affermativa, dichiaro il nome della legge che si è riuniti in matrimonio. Grazie. Applausi. 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 Grazie a tutti